Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace ed un commento per supportare video e canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Oggi ho ben due notizie per voi riguardanti la modalità zombies di Call of Duty Black Ops 3. Non tanto news ma due vere indiscrezioni bomba. Come sempre vi ricordo che i rumor possono essere veritieri al 50%, quindi 50% se 50% no, quindi prendeteli sempre con le pinze. Però come ogni volta vi riporto proprio i dettagli per farvi vedere come nascono questi rumor. Partiamo con il primo della giornata che è veramente devastante e ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno mandato queste immagini. Come sempre se trovate glitch, bug, nuove notizie su Call of Duty e via dicendo mandatemele tutte quante sulla mia email amantecnologia.com così faremo tanti video insieme, cresceremo insieme e così la nostra community del mio canale YouTube si fa sempre più unita. Vi stavo dicendo prima indiscrezione del giorno, parliamo nuovamente di Transit. Vi ricordate questa mappa bellissima con il bus di cui vi avevo parlato qualche giorno fa in merito a quei due bus che erano apparsi magicamente in occasione del Code XP? Torniamo nuovamente a parlare della mappa Transit, una delle mappe a mio avviso più interessanti, però era più che altro da sistemare bene la struttura di gioco perché aveva una storia, era molto particolare rispetto alle altre mappe zombies perché tantissimi utenti, e state vedendo le immagini, magicamente hanno visto la mappa Transit all'interno della modalità zombies di Call of Duty Black Ops 3. Infatti sembrerebbe che c'è un glitch, una sorta di bug che indica la presenza di questa mappa all'interno del gioco. Potremmo vedere infatti partita classificata ZM Transit. Quindi bisognerebbe capire come mai è apparso questo glitch, se veramente la Treyarch in occasione del Code XP andrà a svelare questo DLC 5 mai annunciato, mai confermato, mai praticamente apparso nelle pagine ufficiali della Treyarch contenente delle mappe zombies remastered del passato. Quindi questa potrebbe essere la prima indiscrezione che ci conferma l'arrivo di mappe remake zombies del passato perché Transit è veramente molto ma molto strano, ma più che altro è una coincidenza molto particolare. Seconda indiscrezione del giorno, tantissimi utenti, ringrazio come sempre tutti quanti per la segnalazione, mi hanno riportato che andando a giocare sulla mappa dei Resendraghe, quando vanno a ricercare una partita, quindi lanciano una lobby pubblica in zombies, vengono messi in una pseudo stanza multiplayer sempre in modalità zombies ma con 18 giocatori, cioè una modalità multiplayer fino a 18 giocatori con la mappa zombies. Questa sarebbe veramente qualcosa di fantastico, però questi giocatori non hanno potuto effettivamente iniziare la partita in questa lobby. Le immagini che purtroppo mi sono arrivate erano veramente troppo sfocate fatte con il telefono, però vi volevo riportare quest'altra indiscrezione che era veramente fantastica, veramente mitica quest'altra indiscrezione. Quindi i due rumors di oggi sono la possibilità di vedere nuovamente Transit all'interno di Call of Duty Black Ops 3 e forse una modalità zombies con 18 giocatori. Fatemi sapere qui sotto nei commenti e spaccate il più possibile il tasto mi piace e torno a ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno dato queste indiscrezioni e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.